Sono il dottore Donato Zizzi, sono un medico chirurgo estetico e pratico la medicina chirurgia estetica da appena dopo la laurea del 1991. Ho studiato a Chieti, ho presentato l'università a Chieti, poi diciamo che ho affinato un po' le mie capacità e le mie competenze un po' in giro per il mondo, in particolare la chirurgia della calvizie, soprattutto in Inghilterra, e ho visitato colleghi un po' dappertutto, quelli che ritenevo i più bravi del settore per vedere un attimino come lavorava. La mia passione per la medicina chirurgia estetica è andata maturando, è cresciuta attraverso gli anni. Non c'è stato un momento in particolare o un avvenimento in particolare che mi ha fatto scattare la voglia di voler approfondire questo settore. Quando ho iniziato la mia attività come medico nel 1991, la medicina estetica era veramente agli inizi. Ultimamente la medicina estetica sta confluendo verso altre branche della medicina, quali la medicina preventiva, la medicina rigenerativa, anche perché ricordiamoci che è bello soltanto quello che è sano. Gli interventi che svolgo più di frequente sono il trapianto di capelli, che in realtà è la mia attività chirurgica principale, e poi facciamo anche una sorta di lipolissi tecnologicamente assistita, sarebbe una parente piccola della liposuzione che si effettua con il laser oppure con la radiofrequenza, meno invasiva, ma adatta per trattare zone di piccola entità. Lo staff è estremamente importante in medicina estetica, perché quasi tutte le procedure hanno bisogno del concorso di più figure professionali per poter andare a buon fine e per poter essere complete. Ovviamente si parte dalle procedure di medicina estetica ambulatoriale, in cui non è necessaria una grossa assistenza, alle procedure chirurgiche dove si arriva a un'equipa a volte composta anche da 6-7 persone. Ricordiamoci che la medicina chirurgica estetica è rimane una medicina e chirurgia, cioè un intervento di chirurgia estetica è ugualmente complesso, complicato e bisogna essere cauti come un intervento di un'altra branca ufficiale della medicina, quindi essenziale la presenza degli infermiere, dell'anestesista e dei medici collaboratori. Se un paziente intende ricorrere alla chirurgia estetica per trattare un proprio disestetismo, consiglio innanzitutto di informarsi accuratamente, di non fermarsi mai al primo consulto, quindi di sentire più professionisti. Informarsi non solo sull'intervento, ma anche e soprattutto su chi sia di fronte, cercare di riscontri. Esiste un ordine di medici, esistono delle società di medicina e chirurgia estetica, quindi oggi con internet è facilissimo sapere chi abbiamo di fronte. Quando il paziente si imbatte in informazioni non chiare, quando si vede un sito internet in cui non si parla dei dottori, non si vedono delle foto, ci sono solo dei messaggi pubblicitari roburanti, è meglio, ce le allargo.